Creato da Mary Walton Mahon, Progressing Ballet Technique è un programma innovativo dedicato a tutti gli amanti del movimento. Avendo come scopo il lavoro della memoria muscolare per arrivare al massimo rendimento in una danza classica e contemporanea, questo metodo costituisce un eccezionale supporto tecnico e posturale. Attraverso esercizi strutturati e l'utilizzo di differenti apparati, come la palla ginnica, la banda elastica e la softbow, si raggiunge una costante progressione nello studio. Questa tecnica potenzia stabilità e forza del pavimento pelvico, rotazione, propriocezione, equilibrio, articolazione dei piedi, parete addominale, lavoro muscolare interno ed esterno, allineamento per la danza in generale. Incentrato prettamente sul piano orizzontale, il lavoro rende il peso meno influente, alleviando la resistenza dal terreno. Pertanto sarà più facile per lo studente concentrare l'attenzione nella padronanza del corpo e nell'uso della muscolatura corretta.